Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per uccidere, parole per dormire, parole per fare solletico, ma ci servono parole per amare. Abbiamo le macchine per scrivere, le parole, ritrofoni, magnetofoni, microfoni, telefoni. Abbiamo parole per fare rumore, parole per parlare, non ne abbiamo più. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole. Per pensare, per pensare, abbiamo parole per uccidere, parole per dormire, parole per fare solletico, ma ci servono parole per dormire, abbiamo le macchine per scrivere, le parole. Abbiamo parole per parlare, non ne abbiamo più. Abbiamo parole per parlare, non ne abbiamo più. Abbiamo等一下 per 말�are, non ne abbiamo più. Abbiamo parole per parlare, non ne abbiamo più. Non abbiamo più, non abbiamo più. Abbiamo parole per uccidere, parole per dormire, parole per fare solo a più, ma ci servono parole per...